Oggi, 21 febbraio, siamo arrivati a Borghetto di Vara, in provincia di La Spezia. Questo comune conta circa solo 800 abitanti e ci troviamo a più o meno 100 metri sopra il livello del mare. Guardate che figata anche questa casa qui, molto carina, sembra disabitata però, però c'è un furgoncino. Come avete visto dalle immagini qua sotto non c'è scritto niente di cosa si tratta di queste foto qui, però ho letto che nel 2011 c'è stata una grossa e violenta perturbazione che ha colpito il comune. Ci sono state diverse esondazioni, diversi morti, diversi dispersi, quindi penso che sia il modo di ricordare le vittime e quello che sia successo. Molto bello, carino, in particolare anche il ponte, con questi enormi archi, molto carini. È un comune piccolo però, dai, è carino. Questa è la sede comunale, con il suo simbolo. Mi piacciono un botto anche tutte le casette. Guarda, rettangoli di casette, una attaccata all'altra, di colore diverso. Molto bello questo spazio per sia i bambini per giocare, qui la rete da pallavolo, il campo da calcetto, e là dietro ci sono i campi da calcio, quelli un po' più grossi. Ma cosa sto vedendo? Sacco di bici appese uno con l'altro. Particolare sto posto. Ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, che questo comune vi sia piaciuto. A me è sinceramente piaciuto, è abbastanza carino. Soprattutto per le bici su, che in caso me ne servisse una, poi ne prendo su una e sono a posto. Raga, grazie per aver visto questo video, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.